Ben ritrovati amici del Centro Meto Italiano. Prima settimana di giugno è dell'estate 2019 che si aprirà con sole e clima caldo in Italia. L'anticiclone sarà più presente al centro nord, mentre insisterà ancora a questa goccia fredda sulle regioni del sud. Tempo stabile e clima estivo per la seconda parte della settimana, grazie a questo promontorio di alta pressione in espansione sul Mediterraneo centrale. Da monitorare invece la vasta depressione che scivolerà dalle isole britanniche verso la penisola iberica. Le correnti umide sud-occidentali potrebbero infatti, secondo alcuni modelli, lambire il nord Italia tra il 5 e il 6 di giugno, portando alla formazione di temporali pomeridiani anche intensi. Temperature in rialzo con valori ancora sopra le medie, prima al centro nord e poi anche al sud. Seguite da tutti i prossimi aggiornamenti sulla tendenza meteo per la prossima settimana, sia sul nostro sito che sul nostro canale YouTube. Un saluto da parte del Centro Meteo Italiano.